Musica Bisogna battersi per le proprie idee, per le proprie convinzioni forse bisogna confrontare le aspettative e inventarmi anche altre vite oltre a quella che ho fatto fino adesso Siate educati, ma scomodi, sempre, non vi adagiate sulla cultura degli altri non abbiate paura di parlare, non abbiate paura di proporre Cambiare è bellissimo e ciascuno di noi può diventare qualcos'altro Never never give up, mai mollando si cambia Per molti di noi, quello che è veramente il nostro mestiere ha un nome che se non inventiamo noi, in qualche modo noi recuperiamo e facciamo diventare Puoi cercarlo per anni, ma alla fine si può avere la fortuna di trovarlo e questo è un punto in cui uno finalmente sta al mondo e poi ci puoi passare anni dentro e sarà tutto più semplice Musica Musica Musica